Pochi giorni fa sono comparse delle foto che ritraevano Sonia Bruganelli con Angelo Madonia Ecco la verità sul loro rapporto.Hanno fatto scalpore le foto che ritraevano Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore Paolo Bonolis ed opinionista dell'Isola dei Famosi Uscire dal portone di casa del ballerino di Ballando con le stelle, Angelo Madonia In tanti hanno ipotizzato che fra i due ci fosse del tenero, anche perché di recente hanno trascorso insieme un weekend di lavoro a Palma di Mallorca e sono stati avvistati ad una mostra a Roma Insomma tanti indizi che hanno fatto pensare che i due potessero avere una relazione In realtà è venuta fuori la verità sul loro rapporto e cioè che Madonia abitasse da Sonia Bruganelli già da tempo Ecco cosa si sa.La verità sul rapporto tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia Come riportato da Di Piutf, Angelo Madonia, maestro di Ballando con le stelle, abita in casa di Sonia Bruganelli già da tempo Infatti, la casa dove vive Angelo appartiene alla Bruganelli, che l'ha affittata al ballerino qualche tempo fa Dunque i due già si conoscevano, anche se a quanto pare la scintilla fra di loro è scoppiata a marzo Quando Sonia è stata ospite nell'ultima puntata di Bailando con las estrellas, la versione spagnola di Ballando con le stelle E dove Madonia balla in coppia con una celebrità spagnola Punto da quel momento i due sono stati avvistati insieme, prima in una spiaggia di Palma di Mallorca e poi anche a Roma Un paparazzo è infatti raccontato, era pomeriggio, hanno fatto un giro in macchina e sono tornati verso casa di lui Prima è entrato Angelo e, poco dopo, è entrata anche lei Il paparazzo ha continuato dicendo, lasciata la casa sono andati al Pantheon, poi sono entrati in una chiesa, si facevano le foto Insomma, si vedeva che per loro era una sera speciale Conclusa la serata, la coppia è tornata insieme nella stessa casa, baciandosi e abbracciandosi come accade a una coppia innamorata Punto la casa in questione è sempre quella di Sonia Bruganelli, data in affitto a Madonia Questo particolare dunque rivela che i due si conoscevano già ma che l'amore è scoppiato solo in un secondo momento Ormai è chiaro che i due stiano insieme Di recente infatti Sonia ha postato su Instagram una foto con i bigodini in testa e Angelo ha commentato, me li presti? La Bruganelli ha replicato, solo se ti trucchi come me Insomma, fra di loro sembra essere scoppiato l'amore, come testimoniano anche queste divertenti battute e le paparazzate in giro per Roma Grazie a tutti